Cos'è un pitch? Un pitch è una breve, brevissima presentazione che appunto nasce da Elevator Pitch e sarà proprio una vetrina per i giovani del territorio che in tre minuti dovranno presentare la loro attività, quindi spiegare al pubblico cosa fanno e avranno anche la possibilità di fare una call to action, quindi fare una richiesta alle istituzioni presenti su quello che potrebbero essere i loro bisogni e le loro esigenze e lato istituzionale. Ecco, chi ci sarà venerdì pomeriggio a fare questo pitch all'interno del Zueni Festival? Avremo nove realtà del Tiguglio, di diversi settori, dalla canteristica, dal food and beverage alla moda e anche di diversa tipologia, alcune sono start-up innovative e altre invece magari hanno un business un po' più tradizionale ma diciamo che il fattore comune è proprio il fatto che i fondatori e l'imprenditore di questa attività siano giovani. Qual è lo scopo in generale di eventi di questo tipo? Cosa sperate che te rimanga? Che generi? I pitch hanno diversa natura, molto spesso noi in YLab organizziamo eventi per le start-up e l'obiettivo del pitch è attrarre investimenti, quindi parlare con gli investitori oppure attivare partnership e collaborazioni con aziende. In questo caso è un pitch un po' particolare perché i nostri principali interlocutori saranno le istituzioni poi ovviamente sarà un evento pubblico quindi sarà possibile anche fare domande dal pubblico e in questo caso quindi la richiesta non sono investimenti di natura privata o collaborazioni partici ma proprio come le istituzioni possono supportare l'imprenditorialità giovanile. Come nasce e da chi nasce l'organizzazione di questo evento? Sì, il Zweni Festival nasce dai giovani della società economica in collaborazione con l'associazione Tigulio Crea Impresa che dal 2017 comunque organizza eventi sul territorio con Chiavari Crea Impresa, Tigulio Crea Impresa fino a Liguria Crea Impresa e lo organizziamo in due sedi differenti, una il Giardino dei lettori della società economica e l'altro in YLab. Non è un caso che noi facciamo questa attività in YLab collegata al pitch, collegata all'imprenditorialità perché proprio nella natura dell'incubatore oltre a supportare le start-up del mondo sport e altri settori a livello nazionale e internazionale avere una particolare attenzione al territorio, cioè la mission è anche quella di sostenere l'imprenditorialità nel territorio.